Vincenzo Memola era un militare dell'esercito originario della provincia di Bari impegnato all'hotspot del porto di Pozzallo. Si trovava sul sedile passeggero dell'automobile guidata da un amico ventitrenne di Gela, anche egli militare. I due stavano tornando da Marina di Ragusa dopo aver trascorso la serata in discoteca. L'impatto si è verificato sulla Ragusa Mare all'incrocio tra le strade provinciali 25 e 37 poco prima dell'alba ed è stato violentissimo. Memola è morto durante il trasporto in ospedale mentre il suo amico è ricoverato in prognosi riservata al Giovanni Paolo II di Ragusa. I vigili del fuoco hanno faticato per liberare gli altri feriti, quattro tutti di Gran Michele dal groviglio di lamiere dell'altra auto. Un intervento durato oltre due ore. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro e sono in corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dello scontro. Grazie. 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 Grazie.